Ciao a tutti e bentornati In un'altra puntata di Sai Che Oggi ci troviamo nella biblioteca del santuario della Madonna della Vetrana Con Padre Pio Dandola Dove ci farà vedere questa bellissima collezione di reperti antichi Che ci racconterà man mano Padre Pio Tutto questo è stato richiesto dalla FAI Per la visione di questo patrimonio artistico documentale Questo servizio è richiesto dalla FAI Per esporre al pubblico alcuni reperti importanti della nostra biblioteca conventuale Che è una biblioteca provinciale della nostra provincia di Puglia e Molise Abbiamo tre grandi biblioteche Una a Castellana per la provincia di Bari Un'altra a San Marco Illams nel convento San Matteo per la provincia di Foggia E ancora un'altra a Campobassa per la provincia del Molise La prima biblioteca in questo convento è stata fondata dai frati Alcantarini Quando nel 1714 furono richiamati a costruire questo santuario E hanno cominciato a costruire anche il convento Compresso questo luogo dove hanno posato la prima biblioteca Di qualche migliaio di volumi Se non che nel 1866 Per l'abolizione di tutti i conventi dell'Italia I frati furono costretti a lasciare il convento Rimasero soltanto a due per costruire il culto del santuario E naturalmente la prima biblioteca fu depredata Da non so che Lasciarono migliaia soltanto di volumi Di carattere teologico e biblico Negli anni 60 questa biblioteca fu ricostituita Ex novo Lasciando intatta la prima parte Di un migliaio di volumi E fu acquisito un numero grande di altri volumi Però alcuni nostri conventi della provincia di Bari Avevano delle biblioteche Che hanno custodito i volumi più antichi E che si trovano tutti quanti qua Possiamo anche cominciare da questo volume Un antitutare di Fraddonato di Remita Edito a Napoli nel 1630 La regione Puglia ha restaurato questo volume Come volete Ha ricostruito anche le pagine E ha rifacimento Ex novo della copertina in pergamena Come vedete Questo lavoro è stato fatto insieme ad altri Che vedremo nel 2007 Ci sono anche delle pagine interne Che noi abbiamo mostrato Per far vedere la pulizia E l'accuratezza della pubblicazione Questo secondo volume è un antifonario E' stato scritto dal frate Michelangelo da Ruvo Probabilmente Nella seconda metà del 1700 E' stato restaurato dalla regione Puglia E diverse pagine interne Sono state recuperate Perché facevano parte della copertina Vedete un po' la copertina Dentro la copertina C'erano alcune pagine Per incartare E sono state restaurate E rimesse ex novo Dalla regione Puglia Ecco Rifatte le pagine completamente Ecco E recuperate E messe da parte L'interno è bellissimo E E la copertina Nuovissima Questa è la nuova copertina E questa invece era La vecchia copertina Tutto conservato Dentro Gli scatole Che la stessa regione Puglia Ci ha Offerto La stessa cosa si deve Quest'altro antifonario Secondo La Chiesa Romana Scritta da un altro frate Che si chiama Francesco da Conversano Del convento di Santa Maria La Chienisa A Bitondo E' del 1728 E' stato restaurato Questo nel 2007 Da Ministero per i beni E le autorità culturali Di Bari Molto bello Anche questo Anche questo Aveva questa copertina E dentro la copertina C'erano ancora Alcuni di questi Fogli Volumi Restaurati Completamente Dalle rimessi da parte Facevano parte Forse di qualche altro Antifonario Questo Salterio Romano E' scritto per Ordine del Concilio Tridentino Edito nel 1773 E' stato edito a Firenze Dalla edizione di Nicolao Pezzana Nel 1753 Nel 1680 E' questo libro Da Restaurare Anche questo Di un vocabolario Dall'Accademia della Crusca Molto bello Molto importante Perché E' stato scritto Per Desiderio di Ranuccio Secondo Farnese Duca di Piacenza E di Parma Con paloniere perpetua Della Santa Ciesa Qualche pagina interna E per chi può comprare Dalla Crusca Vedete Tutto importante Ma non ci sono Immagini dentro E' soltanto la copertina Che è molto vivace E' interessante Questo Si chiama Teatro farmaceutico Dommatico E spacirico Di Giuseppe Donzano Napoletano Che era Barone Della Dignola E' stato scritto A Venezia Per L'edizione Di Giuseppe Baglioni In 1688 Molto interessante Anche questo E' stato E' anche questo Restaurato Dalla Regione Puglia Questo E' un mondo Simpolico Non è stato Reostorato Perché la sua Condizione E' molto bello E' stato Ecco Il mondo simbolico A Venezia Tratta Di cose Il cielo Dei corpi celesti Della terra Della terra Degli animali Che ha Questa grande figura Che è un signore Che porta Il mondo Che è il simbolismo Di tutti gli esseri Viventi Della terra Anche questa opera Non ha bisogno Di restauro Perché consiste Proprio Nella Bellezza Molto Istoriato Le opere Di Virgilio Virgilio Di Mandova Che contiene Qui la Bucolica La Georica E l'Eneide Commentate In lingua Toscana Cioè In lingua Italiana E' del 1538 Molto Istoriato Molto Belle Le immagini Che ci sono Dentro E' il famoso Dizionario Del Calepino Ambrogio Calepino Dizionario In lingua Latina E greca Molto Bello Molto Istoriato Ha bisogno Di restauro Ma come vedete Ecco E' stato Incartato Anche Da parte Dello stesso Libro O di altri Libri Dello stesso Come abbiamo Visto Nei salteri E negli antifonari Usavano Anche Carte preziose Queste sono Preziose Come vedete Come la Regione Puglia Le ha Riposite Ma questo Non è stato Restaurato E questo Probabilmente Potrà essere Ripreso Dai restauratori E messo In pulizia Come abbiamo Visto L'opera Più Importante E' questo Che Si chiama Il Mamo Trectus Edito Da Marchesino Giovanni Marchesino Edito A Milano A Venezia Nel 1498 E' chiamato Incunabulo Cioè Prima del Cinquecento Tutti i libri Del Quattrocento Quindi Chiamati Incunabuli Come vedete Qui Questa edizione E' stata Stampata A Venezia Fra Chiesino Era un frate Francescano Di Reggio Emilia Ora Generalmente Questo Volume E' stato Stampato La prima volta Nel 1466 E' Apparso Per la prima volta Nel 1470 E' Una Guida Popolare Che comprende Il testo Della Bibbia Spiegata Con le temologie Delle parole Difficie Dalla Sala Scrittura Era Favorita Dai Predicatori Dai Sacerdoti Nel Tardo Medioevo Perché Forniva Spiegazione Delle Feste Dell'anno Liturgico E I Parici Molto Scarsamente Distruiti Nella Bibbia Si Riferivano A questo Volume Per fare Le piccole Omelie Durante Durante La Chiesa Molto Importante Il volume Ormai E' Stato Restaurato Ecco Era In condizioni Pessime Ma è stato Restaurato Dalla regione Puglia E noi lo abbiamo Qui Molto Prezioso Per cui Nemmeno Lo mettiamo In mostra Questa è Una pagina Interna Precisissima Bellissima Molto Chiara 1498 E qui Abbiamo Alcune Delle 125 Che abbiamo Nel nostro Reperto Ci sono Dei Fondespizi Molto Belli Ecco Il Commentario E le Opere Del Virgilio Abbiamo Visto Il Libro Sesto Dei Decretari Di Bonifacio Ottavo Alcune Dei Libri Di Beato Giovanni D'Undusco Dell'Ordini Minori Teologo Filosofo L'Opera Omnia Di Sant'Omaso D'Aquino Le Opere Giuseppe Flavio Giovanni Fabrini E Il Quinto Libro Della Ened Di Virgilio Molto Bello Vi Ringrazio Ringraziamo Padre Pio Dandola Per questo Bellissimo Racconto Rapido Supersonico Grazie Padre Pio Sai che Può Interessare O Coinvolgere Anche te Però Prima Ancora Passo L'ultimo Saluto A Padre Pio Grazie Ringrazio A voi Per questa Piccola Esposizione Fra poco Facciamo Entrare I Visitatori Speriamo Che Possano Apprezzare Queste Opere Ma Noi Siamo Aperti Alla Cultura Siamo Aperti Alla Conservazione Del Sapere Perché Oggi Ci sono Le opere Scritte Conservate In Digitale Però L'opera Originale Questa Il Digitale Non so Se potrà Essere Noi Abbiamo Il Digitale Nella Nostra Mente Ma Le Opere Scritte Documentano Proprio L'opera Dei Nostri Padri Che Ci hanno Conservato Queste Opere E Noi Degnamente Le Possiamo Conservare In Futuro Grazie Del Vostro Servizio E Il Signore Vi Benedica Pace Bene 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 To Prima Grazie a tutti.